Al via la terza edizione del Lagone del Congiuntivo, il bando della gara biennale ideata e promossa dal quarto circolo didattico Luigi Capuana di Gela è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa. Ad illustrare i dettagli dell'avviso di partecipazione, il comitato promotore della manifestazione è composto dal dirigente scolastico Concetta Maria Mongelli, dal giornalista Franco Infurna, presidente della commissione, dall'insegnante Rosalba Occhipinti, dal presidente del circolo d'istituto Maurizio Matraxia e dal giornalista Andrea Cassisi. Abbiamo avuto degli effetti positivi, specie nei bambini, nell'eccellenza, questo è un potenziamento di eccellenza. Desideriamo potenziare la conoscenza della lingua italiana perché noi la consideriamo importantissima come lingua nazionale perché qualsiasi cosa domani questi ragazzi faranno nella vita, che siano ingegneri, che siano degli scienziati proprio dal punto di vista scientifico, è importantissimo che sappiano parlare la lingua non solo in maniera corretta, è ovvio, ma anche in maniera elegante. Tutti ne parlano e forse questo era uno degli obiettivi dell'iniziativa di questa scuola, coinvolgere quante più persone e poi, come diceva bene la preside, è davvero una questione di eleganza. Lo diceva anche il professore Sgroi nella precedente manifestazione, diceva una cosa simpaticissima, il congiuntivo è come un bel abito, un bel vestito, non lo mettiamo tutti i giorni, lo mettiamo in certe occasioni e siccome la lingua italiana è molto bella e elegante, allora il vestito lo potrebbe usare quanto più spesso possibile. Abbiamo stabilito in sintonia con la dirigente di andare ad estrapolare dal concorso i ragazzi del quarto circolo in modo tale che così si creano due gradatori e non ci possa essere un principio, una situazione di privilegio nei confronti degli altri ragazzi che partecipano. Alla gara possono partecipare tutti gli alunni delle classi quinte e delle scuole primarie di tutte le province siciliane che abbiano conseguito una valutazione in italiano non inferiore a otto decimi. Per gli alunni che frequentano il quarto circolo sarà stilata una gradatoria esterna al concorso. Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14 di sabato 19 marzo prossimo presso la segreteria del circolo didattico di Via Palazzi o tramite mail all'indirizzo terzo agone congiuntivo chiocciolagmail.com. L'agone si svolgerà venerdì 29 aprile. I partecipanti avranno a disposizione 90 minuti per svolgere gli esercizi contenuti nella prova legati esclusivamente all'uso del modo verbale e congiuntivo. In pari o complessivamente 450 euro che verranno distribuiti ai primi tre classificati. La partecipazione, lo ricordiamo, è gratuita. Tutti i dettagli possono essere acquisiti nell'avviso di partecipazione pubblicato sul sito capuanagela.gov.it